Un momento di condivisione di intenti e di lavoro unitario per non perdere l'opportunità di accesso ai bandi europei, gli unici che garantiscono un futuro di sviluppo al territorio. Per la prima volta i 36 sindaci del PIS20 in Ebrodi Città Aperta si sono incontrati nella sala consigliare di Capodorlando per mettersi al lavoro e la redazione di progetti che rappresentano l'unica strada d'accesso ai finanziamenti che l'Unione Europea concederà per i prossimi anni. Il territorio di Ebrodi era già avanti, aveva già un modello di sviluppo e quindi ritengo che i sindaci possano trovare insieme a tutte le altre aggregazioni, noi abbiamo anche la fortuna di avere all'interno del nostro territorio il parco che dovrà svolgere una funzione importante e propulsiva assieme ai comuni della costa e quindi voglio dire tutti i soggetti del territorio non possono più andare da soli ma devono mettersi insieme, fondersi in un'unica agenzia di sviluppo, immaginavo il presidente del parco di Ebrodi che possa progettare, programmare, che possa essere pronta a raccogliere la sfida comunitaria sempre subordinata alla capacità del governo regionale a non far perdere risorse importanti per lo sviluppo di questa terra. Il progetto mira proprio a supportare i comuni nell'affrontare il prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 insomma un'analisi del territorio propedeutica a dar forza alla progettazione che dovrà essere condivisa visto che in ballo ci sono decine di milioni di euro. Questa riunione deriva anche da un'esigenza, quello di riportare noi sindaci e quindi le comunità al centro di un percorso che non deve vedere il territorio dividersi dietro le segreterie la mia paura è che in questo momento una forte politica da parte di uno schieramento sul territorio e una dissennata frammentazione sull'altro versante spingano i sindaci a perdere dei riferimenti i riferimenti per noi sono il territorio e non possiamo permettere neanche che altri enti territoriali chiaramente monopolizzati, e mi riferisco segnatamente al parco dei Nebrodi possano pensare di indirizzare il percorso di un territorio che ripeto ha bisogno delle esigenze dei cittadini non di dare risposte a tecnici, progettisti, amici o amici degli amici questa è una politica che non può appartenere ai Nebrodi non può appartenere a sindaci veri e liberi come ognuno di noi può e deve essere